Musica Ben ritrovati con il notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 30 dicembre. Si presenta a bilancio delle quotazioni succedutesi nell'annata in corso. Il prezzo dell'olio extravergine di oliva della campagna 2021-2022 è passato da 4,15 euro a inizio anno a 6,08 euro a fine anno. Nel grafico successivo con una curva crescente possiamo vedere le quotazioni medie mensili sulle maggiori piazze italiane. A gennaio il valore era di 4,18 euro, a maggio 4,72 euro, a settembre 5,09 euro, a dicembre 5,96 euro, una media annua di 4,86 euro. Vediamo ora le quotazioni medie e le percentuali di incremento trimestrali. 4,23 euro è il valore medio del primo trimestre, 4,68 euro del secondo trimestre, un incremento del 10,50%. 4,90 euro è il valore medio del terzo trimestre, rispetto ai 4,68 euro del secondo trimestre, abbiamo un incremento di 4,80%. 5,65 euro è il valore medio del quarto trimestre, rispetto ai 4,90 del terzo trimestre, abbiamo un incremento del 15,30% per il quarto trimestre e del 46,20% da inizio anno. Passiamo ora all'olio extravergine di oliva di nuova produzione. Il prezzo è passato da 6,34 euro a fine ottobre a 7,20 euro a fine anno, un incremento bimestrale del 13,6%. Quotazioni prodotto certificato biologico Di seguito il consueto confronto del prodotto biologico italiano e spagnolo su base annua. A gennaio il biologico italiano valeva 4,40 euro, lo spagnolo 4 euro. A dicembre il biologico italiano vale 6,70 euro, lo spagnolo 6,35 euro, un incremento annuo del 52,20% per l'italiano e del 58,70% per lo spagnolo. Mercati esteri Si evidenziano quelle aree in cui si è avuto il maggiore incremento di quotazione. Turchia più 55,50%, Egitto più 54,80%, Algeria più 54,70% In quanto è diminuita la produzione dei paesi maggiormente produttivi come la Spagna, più 48,50%. L'olio extravergine di oliva italiano con un più 46,20% è aumentato in misura minore delle altre aree di produzione Per il controllo dei prezzi da parte dei produttori a mantenere costanti i consumi, che al momento sono in leggera flessione. Nel grafico a torta si evidenzia la media percentuale di incremento delle quotazioni dei mercati esteri, che risulta essere del 51,40% rispetto a quella italiana del 46,20%. Grazie per l'attenzione, auguro a tutti voi un buon fine anno e un 2023 ricco di soddisfazioni. Arrivederci alla prossima settimana! Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia